Parte dall'aeroporto d'Abruzzo la costituzione di un coordinamento con gli scali di Ancone e Perugia. Sviluppo e benefit saranno le priorità. Il progetto, partito proprio dallo scala abruzzese, vede il coordinatore e il presidente della saga Enrico Paolini. È la prima volta che tre scali medie e regionali si uniscono per aprire un tavolo tecnico con il governo, ha sottolineato Paolini, e portare avanti una trattativa comune. Sì, abbiamo lavorato circa un mese con i due presidenti facendo funzioni delle marche sull'aeroporto di Ancona per lavorare a questa nostra idea di creare un coordinamento che farà capo all'aeroporto d'Abruzzo, al sottoscritto, tra Perugia, Ancona e l'aeroporto d'Abruzzo, per negoziare con il governo e trattare con il governo tutte le questioni che riguardano gli aeroporti regionali intermedi, non più in ordine sparse uno alla volta, ma con una certa forza, e per fare anche molte proposte innovative. Oltre a Paolini, presenti all'incontro, anche il presidente di Perugia Airport Ernesto Cesaretti ed il direttore trasporti e infrastrutture della regione Marche, Nardo Goffi. Faremo un ordine del giorno, un verbale, e chiederemo un incontro al ministro dei Trasporti per aprire un tavolo tecnico e politico nel quale si ragioni del futuro dei prossimi dieci anni degli aeroporti intermedi e in particolare Abruzzo, Marche e Umbria, che hanno, come sapete, caratteristiche speciali. Creare una sorta di continuità territoriale proprio fra territori colpiti dal sisma. Sì, la mia idea, un po' ambiziosa, forse, diciamo così, non dico velletaria, ma comunque molto speranzosa, è quella di creare un rapporto speciale di questi tre aeroporti, essendo situati nelle tre regioni colpite dal terremoto violentemente negli ultimi anni e ripetutamente, e quindi chiedere al ministero dei Trasporti delle facilities, dei benefit rispetto ai voli, agli arrivi, specialmente rispetto all'incoming turistico in Umbria, Marche e Abruzzo, una specie di continuità territoriale speciale per alcuni anni, come avviene per le isole, che favorisca l'incoming in queste regioni e faccia i fatti. Basta di dire che siamo solidali alle regioni terremotate e facciamo qualcosa di vero. Grazie.